musica 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 ragazzi ragazzi questo è un video però è anche una challenge quindi io la chiamerei video challenge adesso questo raga grazie mille per come mi state sostenendo che tra da 0 e 72 iscritti non è facile arrivarci anche per me che sono molto bravo però mano a mano che ci arrivo imparo ok raga andiamo subito alla challenge questa si chiama la cia non lo scrivo la chappi banni challenge qua ok raga cominciamo prendiamo ok raga eccoci qua questa è un ciò più bello vabbè apriamoli ok ok aperti come vedete madonna ci sono armato di spazzoletti tre spazzoletti ok 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 prima ok prima un ciò più bello un ciò più bello che 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 è è che 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 Perfetto Allora venga, ho sputtacchi tutto. E allora venga, vede, primo round abbiamo fatto il primo round, ok? Secondo round. Ciampi panni. Wicca panni. Direccia panni. Fascia 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 panni. l'originale dell'automica secondo round è pesante ragazzi non c'è più bari ma la dannun stavano perché non ho fatto il tema non ci stavano vedete due c'è più bari per lui c'è una bari al proprio più bari un gruppo for more Oh, il problema. Si, si, si. Ah, ah, si, si. questa mente c'è s che sia uno schifo sia possibile comunque raga però che il video che vi sia piaciuto se vi sia piaciuto scrivete un commento e mettete mi piace ci sono le nuova pagina di Instagram e mi mettono in descrizione scusate un attimo respiro devo prendere un attimo respiro ok e come ho detto vi metto le nuove pagina di Instagram in descrizione e raga iscrivetevi anche sul mio nuovo cioè sul mio secondo canale mi chiamo sempre andare pannone però ho l'immagine blu non ho nessuna immagine là quindi ok raga detto questo ci vediamo così ragazzi ciao